Dopo il riconoscimento della città da parte del sindaco Luigi De Magistris, ieri pomeriggio è stato il suo quartiere Marianella a festeggiare Enzo Avitabile con l'inaugurazione di un grande murale che ne racconta la storia. Un progetto di street art fortemente voluto dall'associazione dell'area nord Proloco Soul Express e realizzato dall'artista romano David De Angelis in arte gofi per celebrare il musicista napoletano e di suoi recenti successi con tutta la comunità di Marianella. E' una grande emozione ma la cosa che mi piace è la sintonia che traspare in questo momento, che è un percorso che Luigi è stato già molto chiaro nel farlo, cioè quello di partire proprio dal proprio quartiere, quando ha detto io sono il sindaco di tutti, ricordo che nella fase pre-campagna ha girato tantissimo e è andato in tutti i punti della città considerando chiaramente ogni punto della città un punto importante. Quindi abbiamo adottato la stessa cosa, siamo partiti da Napoli, un riconoscimento della mia città, però poi siamo ritornati comunque nel quartiere perché è dal quartiere che poi nasce la città, è dal quartiere che nascono le nuove energie. Qui nel quartiere Marianella, il quartiere in cui è nato Enzo, un'opera d'arte dedicata ad Enzo, credo che sia un tributo di Napoli a un grande talento, un grande artista e un grande uomo, quindi noi siamo fieri di tutto questo ed è bello qua stare insieme al quartiere e soprattutto insieme ai bambini di Marianella.